Ciao a tutti, oggi faccio un video che è nato da una mail che mi è arrivata da una persona che mi era appunto scritto che mi chiedeva se io usassi il transposer ora il transposer è una di quelle cose che divide un attimino il mondo dei musicisti, dei tastieristi prima di parlarne, ne parlo molto volentieri, ma prima di parlarne ovviamente vi invito come sempre a iscrivervi al canale cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati mettere un mi piace alla fine del video se vi è piaciuto fare commenti e quant'altro vi ricordo il mio canale Patreon dove potete innanzitutto sostenere il mio lavoro poi avere i video, quelli che pubblica su YouTube in anteprima ogni settimana escono comunque due video almeno e quindi insomma ci sono altri contenuti alcuni dei quali non verranno mai messi su YouTube quindi c'è un contatto molto più diretto con me se mi chiedete cosa insomma io vi rispondo con un video per il livello pro ci sono anche delle lezioni online poi ci sono chiaramente trascrizioni, tutorial, suoni e un sacco di cose sempre uno spazio in continua crescita e vi ricordo anche che se volete avere lezioni online soprattutto su tutta la parte tecnologica ma anche sullo strumento perché no oppure consulenze scrivete a info.paologambino.com detto questo la risposta utilizzo il transposer è assolutissimamente no detesto il transposer perché pur non avendo io l'orecchio assoluto anzi non ho assolutamente orecchio ci solito dico per fare una battutaccia non è vero però non ho questa fortuna però quando sento che le note non sono quelle che dovrebbero essere mi dà profondamente fastidio e mi fa sbagliare mi fa sbagliare tanto quanto sbagliare cambiando una tonalità quindi preferisco sbagliare però nella tonalità giusta al di là di quello che è il mio personale vissuto io credo che per un musicista che sia professionista o meno sapersi muovere in tutte le tonalità sia la prima cosa prima di andare veloci prima di fare tutto quanto sapere dove siamo è fondamentale io i miei allievi quando metto di fronte a una parte dico che tonalità siamo prima cosa voglio che si sappia dove siamo e lo studio delle scale dovrebbe essere prima di tutto quello non tanto la velocità che è certamente importante però prima di quello sapere ok quali sono le note quali sono i gradi su che accordi ci sono perché questo ci aiuta a muoversi oltretutto ci sono brani che è impossibile non fare senza saperci muovere in tutte le tonalità voglio fare due esempi uno è un brano che facevo con Eugenio Finardi un brano tra l'altro bellissimo che si chiama Un uomo un brano che mi piace molto al di là del testo che è bellissimo il brano è costruito sul circolo delle quinte cioè quindi praticamente parte la do poi fa si bemolle mi bemolle eccetera eccetera per ritornare poi a do quindi passa tutte le tonalità questo secondo me è una cosa interessantissima poi sapete che io suono anche Gospel anzi vi metto il link a un setup del Sunshine Gospel Choir e appunto suonando Gospel il Gospel ha proprio questa caratteristica che tantissimi brani per diciamo creare crescita usano i cambi di tonalità ma non uno magari due, tre, quattro addirittura c'è un brano che facciamo col Sunshine Gospel Choir un brano di Card Care che si intitola In the Century che usa tutte le tonalità cioè dodici tonalità parte da si bemolle minore e finisce in la minore quindi cioè in questi casi qua non c'è possibilità non può sì certo uno potrebbe mettere il trasposer per ogni tonalità ma è un pasticcio pazzesco oltretutto è proprio poco musicale c'è un altro discorso anche molto importante questo è una cosa che dico non solo ai trasteristi ma soprattutto ai non trasteristi ai cantanti perché soprattutto anzi ai cantanti perché di solito i cantanti ma sì ma tanto tu c'è il trasposer cosa ti cambia? non è vero perché spesso cambiando le tonalità un conto se ci spostiamo di un tono sopra sotto tutto va abbastanza bene ma se ci spostiamo di magari una quarta in giù o in su spesso le parti non funzionano più bisogna proprio rivedere il brano e questo vale per le tastiere ma vale anche per altri strumenti io credo che veramente soprattutto faccio l'appello ai cantanti siete attenti perché a volte ci sono cose che possono essere problematiche i chitarristi per dire ci sono cose per cui magari ci sono concepite in una tonalità che suonano in un certo modo a volte non funzionano più ma questo vale per qualunque strumento magari si va fuori estensione quindi ci sono tutta una serie di cose molto importanti quindi questo è un motivo tra l'altro ho fatto in uno dei miei video delle sfighe da live raccontavo andatevevo a vedere vi metto il link comunque brevemente in un concerto con Eugenio Finardi capitò che appunto io avessi un backline su un posto con una North Stage 2 EX che è appunto un ottimo strumento ma che non conoscevo affatto e questa tastiera ha questa bruttissima cosa di avere un tastino che transpone di un semitono quindi io mi ritrovai appunto a fare Non è nel cuore che è un brano che parte col pianoforte appunto avendo toccato il tastino pensando non c'era stato il tempo di fare il soundcheck quindi io praticamente cercando i suoni così un pochino a fantasia in realtà toccai quel tastino e quindi mi ritrovai con l'intro di Non è nel cuore fatta un semitono sopra quindi ovviamente dovetti intanto intercettare gli altri musicisti per dirglielo e poi ci fu uno dei punti in cui praticamente suonai con una mano in una tonalità e in una mano nell'altra perché ovviamente avevo l'altra tastiera collegata a Main Stage e siccome non usi Trasposer non ero capace di trasporre poi c'è ovviamente troppa roba a cui pensare e quindi praticamente non dico di averlo fatto benissimo questa cosa dove suonare in una mano in una tonalità e in un'altra però fu un esercizio e poi ovviamente finito il concerto tirai giù tutte le parolacce che conoscevo e chi mi conosce sa che sono mediamente una persona pacata ma li diciamo recuperai tutto quanto anzi ne dissi di ogni sulla North Stage con i miei colleghi che giustamente mi dicevano ma c'è un sacco di gente che la usa e la cosa divertente fu che poi appunto qualche anno dopo mi comprai anche io una North Stage per cui ovviamente mi presero in giro tutto quello che meritavo ovviamente imparai come disabilitare quel maledetto tastino comunque io credo che veramente sapersi muovere nelle tonalità in tutte le tonalità sia utile perché ci crea innanzitutto delle possibilità in più perché poi anche soprattutto quando si improvvisano magari esploriamo altre tonalità abbiamo delle possibilità in più poi dico un'altra cosa se ci trovassimo su un pianoforte vero o comunque un pianoforte senza il trasposer un organo a ammo uno strumento appunto senza il trasposer ci troviamo assolutamente in difficoltà mi capita anche ogni tanto mi è capitato appunto che mi arrivi qualche allievo e dici ah sì improvviso fammi sentire fammi sentire ah magari un blues in do ok dico bravo bravo ok me lo fai sentire mi per favore panico ecco ora questo è un esempio mi ricordo anche un mio amico l'avevo già anche detto appunto che disse un giorno ah ho suonato con un tastierista suona quasi come te è più o meno al tuo livello solo che usa solo il trasposer e allora ovviamente dal tamarro quale sono gli dissi non è al mio livello ma è 12 livelli più in basso perché ovviamente al di là di tutto veramente su questo discorso qua io ci credo veramente tantissimo quindi sapersi muovere nelle tonalità è più importante di tutto conoscerle saper esplorare non parliamo poi se creiamo musica perché secondo me è anche veramente limitante sapersi esprimere solo in certe tonalità e poi soprattutto anche proprio a livello di tecnica prima delle cose veloci è più importante conoscere chi c'è in una tonalità quindi a volte anche proprio sono delle comunque delle difficoltà che vanno affrontate affrontarle comunque ci migliora tecnicamente ecco però voglio anche fare l'avvocato del diavolo e dire che ci possono essere delle casistiche in cui il trasposer ci può essere utile molto utile per esempio quando non so supponiamo situazione il nostro cantante è giù di voce e ci viene chiesto di abbassare tutto di un tono poniamo se è una cosa che veramente è fatta magari non so un paio d'ore prima del concerto in effetti ci può essere un problema magari quando abbiamo delle parti obbligate quindi le parti non so proprio dove bisogna fare esattamente quella parte lì quindi non stiamo ragionando su una struttura armonica ma proprio dobbiamo fare le parti di archi fiati synth quello che è e quindi ci può essere magari un problema proprio tecnico non ci può essere il tempo necessario per studiarci tra l'altro per parlare noi tastieristi magari abbiamo un setup anche con degli split delle cose che magari in effetti può essere problematico quando invece però ci troviamo magari ad accompagnare diciamo col pianoforte per dire su una struttura armonica quindi dobbiamo rivedere semplicemente appunto la tonalità ad adattare tutto io credo che un bravo musicista debba essere in grado di cavarsela comunque magari appuntandosi due cosine però debba essere un buon obiettivo quindi diciamo vincere un pochettino la pigrizia mentale che abbiamo perché veramente lavorare sulle tonalità è un esercizio più per la testa che per le mani ma lo è anche per le mani quindi questo è un video così che spero che sia utile a tutti quanti vi mando un abbraccio e a presto ciao